Ciao, piacere Ciao, Angelo, piacere, piacere Angelo Noi ci siamo visti due soldi Oh, io, Giacca, c'è un sacco di messaggi a leggere, vai un attimo in bagno No, non le leggo, non so se i messaggi Ci mettiamo lì così facciamo un gruppo, ok, così poi andiamo Adesso è lì, quella con gli occhiali, con le due ragazze, una di quelle è l'Elisa Ah, ok Questa parte qua, tutto dritto Sì, poi ci vediamo chi mangia, chi non mangia, siamo in tempo Sì, ancora sì No, ma ci vogliono retta, tu, scusi Con calma, però, ciao Quelle tizie Ciao, ciao, Dylan Ciao Come va? Vado a me Ah, ecco qua Va bene, vado a me Facciamo un senso Vado a me Vado a me Vado a me Vado a me Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Ciao.